benvenuti sul mio canale tutto dal web io sono angela e oggi in questo video voglio parlarvi del nuovo personaggio che se avete tik tok è impossibile non abbiate conosciuto sto parlando di lei xiao xiao che è finita nel centro della polemica per quanto riguarda proprio la sua famiglia addirittura pare sarebbe sfruttata per poter guadagnare ma ecco cosa sappiamo e le ultime notizie che ci giungono proprio per questa ragazzina che tanto ragazzino non è perché la sua età è di 36 anni facendo la ricerca sul web abbiamo scoperto che come vi dicevo a 36 anni proviene dalla cina ed è affetta da una patologia che la rende la che rende la sua statura e la sua corporatura meno sviluppata rispetto a quella di una donna della sua età il suo profilo tik tok cinese è gestito dai genitori e della sua famiglia sui social vengono poi pubblicati diversi video in cui la ragazza è serena canta tranquillamente per strada mentre altri video la ritraggono durante la sua vita quotidiana mentre tira calci e pugna le persone tutto ciò si fa per attirare visualizzazioni tutta questa fama avrebbe poi portato xiao addirittura ad essere la star di concerti in tutta la cina in tal modo che la famiglia starebbe guadagnando e ricevendo elettrodomestici molto costosi e pare infatti che xiao xiao verrebbe da una famiglia poverissima il fratello la infastidirebbe così da provocare una sua reazione un calcio ad esempio pare che però la famiglia abbia smentito queste voci non solo con un annuncio pinnato in alto avrebbero smentito le voci che li vedono lucrare su di lei non solo avrebbero anche spiegato che xiao è spesso nervosa perché dipende dal telefono e quando lo si toglie entra in crisi voi cosa ne pensate di questo nuovo personaggio veramente molto carino scrivetemelo giù nei commenti grazie